La quattordicesima stagione di Grace Anatomy è ormai giunta al capolinea, giovedì 17 maggio. Andrà infatti in onda l'ultimo episodio, video, nel medical drama più famoso d'America. Fresco di rinnovo ufficiale per la quindicesima stagione, il telefilm targato Sean R.H.I.M.S.A. Da poco detto addio a due dei personaggi più amati della serie. Apric e Pner ed Arizona Robbins. Le tappe conclusive delle loro storyline sono state delineate nel corso dell'ultima puntata, 14x23, ed hanno fornito un finale agrodolce non del tutto apprezzato dai fan. Per il personaggio interpretato da Sarah Drew si prospetta un futuro accanto al suo fidanzato storico Matthew, mentre Arizona si trasferirà a New York insieme alla figlia. Nei lunghi anni trascorsi sul set di Grace Anatomy, molte sono state le amicizie che si sono instaurate. La testimonianza arriva dalle numerose parole di affetto che gli attori, superstiti, hanno dedicato, sia sui social che in privato, alle due bellissime interpreti. Subito dopo il ventitresimo episodio gli account Instagram e degli attori di Grace Anatomy sono stati invasi dalle dediche e dai ringraziamenti. In particolare i fan sono stati colpiti dalle parole di Sarah Drew nei confronti di Jesse Williams e da quelli di Jessica Capsho per Justin Chambers. Anche Ellen Pompeo, la protagonista indiscussa, in una recente intervista ha dichiarato il suo affetto per Jessica e Sarah placando i gossip che la ritenevano responsabile del loro licenziamento. Kevin MCK Kid parla dell'abbandono di Sarah Drew nelle ultime ore a tenere banco sono le dichiarazioni di Kevin MCK Kid. L'affascinante interprete del maggiore Anta ha infatti stretto, nel corso delle stagioni, un rapporto di forte amicizia con Sarah Drew, video. Così come i personaggi che interpretano, anche nella vita reale, i due attori sono legati da Un bene profondo che, siamo sicuri, continuerà anche dopo la fine di Grace Anatomy. Dalle ultime dichiarazioni, si comprende come April a Kepner mancherà moltissimo ad Owen, così come Sarah mancherà tantissimo a Kevin. Penso che Owen soffrirà per questa cosa. Penso che ancora non si sia reso conto di quanto sia stata bella la sua vita in questi ultimi anni. Jessica Capsho e Justin Chambers dolci sono anche i messaggi d'affetto scambiati sui social tra Jessica e Justin. La bellissima interprete di Arizona Robbins dichiara un immenso affetto nei confronti del suo collega estenta a pensare che non lavoreranno più insieme. Non manca neanche un plauso per le doti interpretative di Justin che Jessica definisce un grande attore. Ecco alcuni stralci del post su Instagram, fa sentire tutti come se lui fosse. Il loro più grande fan e non perde occasione per fare un complimento. Ho appreso infinite lezioni di vita da lui e ho amato ogni momento. A questa dedica Justin ha risposto con una foto che lo ritrae con un ritratto. Della bella Jessica che assicura rimarrà nella sua roulotte fino alla fine delle riprese.